Buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica domanda risponde. Oggi parleremo di un argomento molto di attualità in missioni ruolo da concorso STEM e da GPS. Andiamo immediatamente alla prima domanda. Ho superato il concorso ordinario per il ruolo in matematica e fisica. Posso partecipare al concorso STEM? Quali sono i tempi e le convenienze? Il concorso STEM è un vero e proprio concorso ordinario. Può partecipare solo se si è fatta la richiesta entro il 31 luglio 2020 per il concorso ordinario. Quando è stato emanato il bando del concorso con il decreto dipartimentale 499 del 21 aprile 2020, chi ha fatto domanda potrà partecipare al concorso STEM. I tempi saranno brevissimi, tanto che si dovrebbe svolgere tutto entro il 31 luglio 2021. Con la possibilità di produrre le gradatorie definitive entrano oltre il 30 ottobre 2021 per entrare in ruolo retrattivo al 1 settembre 2021. La convenienza è che chi vince un concorso ordinario ha diritto alla scelta della sede di ruolo prima delle gradatorie GAE e prima delle GPS prima fascia. Inoltre per il futuro il superamento del concorso ordinario ha diritto a 12 punti sia nella mobilità che nelle gradatorie interne di istituto per l'individuazione dei docenti perdenti posti. Seconda domanda, come funziona l'emissione e il ruolo da GPS prima fascia che dovrebbe avvenire per le assunzioni 2021-2022? Incominciamo col dire che ancora la norma è via di definizione perché per adesso abbiamo solo un decreto legge, il numero 73 del 25 maggio 2021. Nella conversione non sappiamo se ci saranno emendamenti e dunque se cambieranno le regole. Al momento chi ha i requisiti di essere inserito nella prima fascia GPS negli elenchi aggiuntivi e contestualmente ha riconosciuto tre anni di servizio negli ultimi dieci, compreso l'anno 2020-2021, potrebbe essere individuato in ruolo con le assunzioni proprio per l'anno scolastico 2021-2022. Si tratta inizialmente di un contratto a tempo determinato che culminerà a tempo indeterminato con il superamento dell'anno di prova e di una prova disciplinare a fine anno scolastico. Terza domanda, se va male il concorso STEM, c'è il rischio di non poter partecipare per la stessa classe di concorso al successivo bando di concorso ordinario? No, non c'è questo rischio. Resta impregiudicata per i candidati della procedura del concorso STEM la partecipazione alla prossima procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso. Anche in deroga alla norma che i candidati che partecipano a una procedura concorsuale e non superano le relative prove non potranno presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva e per la medesima classe di concorso tipologia di posto per la quale non ha superato le prove. In questo caso il concorso STEM non dà questa problematica, si accede tranquillamente alla prossima prova di concorso ordinario senza avere pregiudizi. vi ringraziamo per l'attenzione, ci potete seguire ancora sui nostri canali social, youtube e facebook perché tratteremo questi temi di estrema attualità con altri articoli e addirittura con dirette sui nostri canali. Arrivederci e alla prossima puntata. Grazie a tutti.